L'osservatorio sviluppo e legalità e liberiato partecipano alla settima iniziana del concorso nazionale di poesia città di San Giorgio a Cremano, consegnata la medaglia della Camera dei Deputati a Giacomo Grimaudo. Il premio nazionale di poesia città di San Giorgio a Cremano a Napoli, Giacomo Grimaudo ha ricevuto un grande premio, la medaglia della Camera dei Deputati per l'impegno naturalmente svolto per la legalità. Sì, è stata una bella manifestazione che si è svolta a Napoli, a San Giorgio a Cremano e abbiamo ricevuto l'invito del Presidente di questa associazione. È stata una giornata molto intensa che è iniziata la mattina con un convegno sulla legalità dove c'erano i sindaci del comprensorio, il colonnello dei carabinieri, c'erano molte autorità. Siamo stati invitati noi dall'osservatorio ma anche dall'associazione anti-usuranti-racket di Francesco Billesci, però quello che noi abbiamo voluto mettere in evidenza in quella sede sono stati soprattutto gli aspetti positivi del nostro territorio. E quindi cosa fanno le associazioni qua nel nostro territorio, come operiamo e non soltanto parlare degli aspetti negativi della mafia ma che a fianco a questi ci sono tra virgolette gli anticorpi che si occupano di legalità e di sviluppo del territorio. Poi nel pomeriggio abbiamo avuto il premio letterario dove Francesco Billesci ha spopolato, ha fatto incetta di premi e questo serve ancora di più a dare lustro al nostro territorio. Francesco Billesci, anche lei è presente a questo premio di poesia, naturalmente il suo impegno continua a livello letterario e quindi i premi continuano. Sì, di mattina abbiamo partecipato insieme a Giacomo Grimaudo dell'Osservatorio Sviluppo e Legalità ad una conferenza antimafia a cui hanno partecipato tante persone, diciamo, importanti di un certo livello come il giudice Santino Mirabella della Procura di Catania, lo scrittore Pino Imperatore, alcuni componenti di Radio Siani e tanti altri ancora. È stata una bella manifestazione, il momento più bello della mattinata, la consegna della medaglia della Camera all'Osservatorio Sviluppo e Legalità. Guarda, mi sono emozionato tantissimo nel vedere Giacomo Grimaudo che ritirava quella medaglia. Poi di pomeriggio c'è stata la premiazione, io sono stato premiato come poeta nella poesia ebrei nella sezione poesia e lingua siciliana, con un primo posto e un terzo posto nella poesia religiosa con la fede ritrovata. E poi, guarda caso, questo non me l'aspettavo, anche un ulteriore premio della giuria popolare che hanno votato in sala durante la cerimonia di premiazione, sempre con ebrei. Quindi sono soddisfatto. Poi insieme a Giacomo dell'Osservatorio ci siamo recati a Napoli ad un'altra manifestazione organizzata da Tano Grasso a Piazza Plebiscito per la raccolta delle firme relative al consumo critico. Comunque, abbastanza soddisfatto. Sì, quest'ultimo appuntamento è stata una giornata intensissima. Siamo stati poi contattati anche da Tano Grasso, che c'era questa giornata della legalità a Piazza Plebiscito. Abbiamo avuto la sorpresa e anche l'onore che Francesco ha letto una poesia sul palco. E' stato un fuori programma che una sorpresa gli ha fatto Tano Grasso, ha interrotto la musica, ha chiamato tutti a raccolta e Francesco Billesci ha letto questa poesia che è stata molto apprezzata a Piazza Plebiscito. Un'ultima cosa volevo dire, volevo sottolineare, sono questi i messaggi che dobbiamo mandare della nostra città. Le cose positive, basta esportare sempre fatti negativi. Dobbiamo essere apprezzati per quello che facciamo e per le cose positive che facciamo. Così come metteremo in evidenza le cose positive nel prossimo premio obiettivo legalità che faremo giorno 19 a Partinico, dove oltre alla lotta alla mafia parleremo di eccellenze del territorio e di persone che si sono distinte.